Carissimi e carissime ascoltatori e ascoltatrici di Radiomater, buongiorno e buona domenica a tutti. Sono Don Stefano Buttinoni e in questa domenica mattina riprendiamo il nostro percorso sulla disabilità. Sono molto contento di sapere, di vedere che è un percorso utile, ecco questo per me è molto importante, diverse sono le risonanze, diverse le persone che mi hanno scritto e qualcuno addirittura mi ha telefonato e anche mi è stata chiesta una disponibilità per alcuni lavori in alcune diocesi italiane, quindi vuol dire che Radiomater davvero diffonde tutto il suo desiderio di chiesa per tutto il nostro grande estivale, questo mi fa molto piacere. Allora recuperiamo un attimino le fila del nostro percorso, noi siamo partiti la prima domenica con il cieco nato e vedere come Gesù guarda a questa persona e non alla sua disabilità. Poi siamo entrati nella casa di Lazzaro e abbiamo cercato di comprendere quali sono i segreti di questa di questa casa così misteriosa e affascinante e poi la scorsa mese fa, la scorsa puntata, abbiamo affrontato la grande questione dei diritti internazionali, dei diritti umani delle persone con disabilità all'interno della società e del loro valore sociale e abbiamo capito come sia importante entrare nella relazione con tutti quanti abbattendo quei codici non scritti che ci sono dentro di noi e che vanno a fare quella che chiamiamo la tirannia della normalità, cioè questa gabbia di pensiero che ci tiene costretti in un'interpretazione della presenza degli altri secondo dei criteri di normalità che uccidono l'identità della persona. Però questo ragionamento che abbiamo fatto insieme ci ha portato a un orizzonte interessantissimo che è quello dell'appartenenza, cioè del fatto che io scopro che non posso vivere senza di te. Ecco questo è sicuramente l'apice di un percorso, quando questo si realizza intendo dire, però io posso accorgermi di questo anche se non è totalmente compiuto, cioè io mi accorgo dentro di me che se mi manca quel bimbo fragile a catechismo e non è la stessa cosa. Ora con questo significa che appunto mi è entrato nel cuore che è nata questa appartenenza, magari non è ancora compiuta per cui ad esempio appunto oggi quel bimbo manca perché mancano degli elementi che avrebbero potuto permettergli di essere qui oggi, però qualcosa sta succedendo. Oggi allora partendo da queste intuizioni facciamo un altro passo avanti, il nostro quarto passaggio e vorrei soffermarmi su alcune attenzioni che la comunità cristiana deve avere per evitare di essere una società che eroga servizi, magari eroga anche servizi religiosi, ma che in realtà non è chiesa. Dare un sacramento non è necessariamente essere chiesa. Io posso buttare là dei sacramenti perché c'è una richiesta ma è chiesa, quella cosa lì, o è un dispenser, lo dico così ecco senza nessuna credine verso nessuno, però dobbiamo riflettere. Allora innanzitutto bisogna rendersi conto di una cosa che senza star troppo a girarci intorno le famiglie nelle quali è presente una disabilità hanno delle oggettive difficoltà a vivere e questo deve essere chiaro. A volte noi siamo spaventati da questo perché quando in questa sorta di identificazione proiettiva noi ci pensiamo nei loro panni andiamo in crisi per cui uno dice mamma mia ma come faranno quei genitori lì con quel bambino lì, con quella persona lì, con quando saranno anziani e quando non ci saranno più eccetera eccetera, ma magari non ci rendiamo conto che con alcuni supporti, con un po' di sostegno la vita di quella famiglia riesce a trovare un suo andamento naturale e la fatica di quel vivere se condivisa diminuisce. Una cosa che succede spesso ed è auspicabile che succeda che quando nasce un bimbo con disabilità ecco ad esempio che si attivano i nonni, gli zii, il vicino di casa, ecco quella piccola rete di trame sociali che non lasciano soli quei genitori, ecco perché se c'è una cosa che sicuramente debilita le forze, strappa via le forze è proprio la sensazione di essere rimasti soli e bisogna anche considerare che qualche volta questa solitudine non dico che sia cercata ma sia un poco naturale, appunto a volte succede che i genitori di una persona con disabilità alcune cose non le fanno e non tentano neanche di farle perché da un lato le sentono già gravose, dall'altra parte si sentono in qualche modo più al sicuro se non si espongono, appunto come faccio a portare un bimbo con autismo al ristorante? Beh meglio che mangiamo una pizza tutti insieme in casa così almeno se si mette a correre non viene sgridato o non dà fastidio agli altri, ecco questo noi dobbiamo capirlo, dobbiamo renderci conto che a volte la famiglia tende a chiudersi perché la fatica dell'aprirsi è una ulteriore fatica al vivere, appunto già è faticoso la nostra settimana figuriamoci se alla domenica dobbiamo anche andare al ristorante, ecco con lui che appunto ci crea di questi imbarazzi. Allora le famiglie con disabilità spesso devono essere sostenute perché la loro vita è estremamente gravosa e qui la comunità cristiana ha un ruolo strepitoso, se è una comunità cristiana con questo nome, di nome e di fatto, perché? E beh perché nella comunità le persone possono conoscersi, possono interagire e possono appunto sostenersi. Ad esempio non è sufficiente che, parlo dell'iniziazione cristiana che è sempre l'ambito quello più facile, no? Che i genitori si siano decisi a iscrivere Luca per il catechismo, no? Dopo devo accorgermi ad esempio che magari ci sono altri due fratellini che mentre la mamma dà una mano alla catechista perché Luca ha bisogno di essere conosciuto, di conoscere l'ambiente, di farsi conoscere dagli altri bambini e chi le tiene gli altri due figli? Ecco allora che la comunità cristiana si può attivare con un'altra mamma, con una nonna, con un papà che va a prenderli a scuola, con un nonno che mette sulla cena, non lo so, ecco? Cioè questi aiuti che sono davvero l'attivazione di una carne viva, vitale. Ecco, guai a noi se pensiamo di somministrare dei sacramenti, ad esempio in quel caso, non all'interno di una storia, non all'interno di una carne. Noi parliamo sempre di incarnazione, festeggiamo l'incarnazione, parliamo di Maria Santissima e poi dentro in queste cose qua ci perdiamo, come in un bicchier d'acqua. È chiaro che è bello che Luca vada a catechismo, ma Luca può venire a catechismo se io raccolgo tutta la sua storia. È chiaro, noi quando osserviamo questo per la vita di Luca che magari appunto ha una disabilità, ma ci accorgiamo quello che sbagliamo con tutti gli altri. Cioè noi lo sappiamo benissimo che quello schema di ricevere i bambini in parrocchia per il catechismo, nell'assenza di una condivisione delle vite, non funziona. Non funziona, tant'è vero che appena possono non vengono più. Ma perché? Ma perché le vite di quelle famiglie non si sono mai intersecate? Perché non hanno mai fatto comunità, non sono diventate corpo e quindi quello spirito non ha un corpo dove incarnarsi. E quindi è chiaro che l'intersecarsi delle vite e delle vite faticose magari è un elemento essenziale, è un elemento più che necessario. Quindi io non posso, ad esempio se sono sacerdote dell'oratorio, non posso semplicemente essere contento che i genitori di Luca sono venuti, hanno fatto il colloquio con me, hanno scritto il bambino. Devo anche avere il coraggio di dire, allora, ma per la partecipazione di Luca come possiamo aiutarvi? È lì che si vede che questa carne viene irrorata di Spirito Santo. Eh sì, questo è un passaggio importantissimo, per cui chi mi ascolta come catechista, chi mi ascolta come operatore sociale, ma anche come semplice membro della comunità cristiana. Eh beh, si faccia una domanda se questo avviene. Poi appunto magari tu all'interno della comunità cristiana non hai un ruolo, una cosa, vai a messa la domenica, stamattina ascolti Radio Mater, beh, domandati, ma per quella famiglia lì cosa posso fare io? Magari è soltanto questione che il giovedì pomeriggio, quando il bambino è a catechismo, io gli preparo le lasagne alla sera, così la mamma può stare e arriva a casa e si trova le lasagne. Ecco, queste cose proprio di una semplicità abissale, ma che dicono? Una sorta di sostegno semplice, ma molto molto fattivo. E certo, a volte può non essere semplice questo, proprio per quel criterio di chiusura, perché appunto magari la famiglia non vuole esporsi nelle sue difficoltà. Ecco, consideriamola questa cosa. Guardate che non è semplice dire agli altri io ho bisogno, io non ce la faccio. È molto difficile a volte e quindi l'approccio potrebbe anche essere sbagliato. Dimmi che cosa ti serve e se già c'è questa difficoltà la persona dirà no, no, ma a me non mi serve niente, ce la caviamo. No, è una cosa lì, ce la caviamo. Quindi è questione, ad esempio, di andare a conoscere chi è la persona, come sono le persone, come si svolge la vita quotidiana eccetera. A me capitava quando appunto accoglievo i bambini per la catechesi, quelli che hanno i genitori separati, no? E dove la catechesi è tutti giovedì pomeriggi dalle 5 alle 6, no? Per il tuo gruppo, però lui una settimana va a dormire di qui, una settimana va a dormire di là. Ora io non anche posso semplicemente dire, questo qui è il catechismo, per il resto arrangiati. Devo accorgermi che quel sacramento deve entrare in una carne di un bimbo che è spezzettato tra due case, 12 nonni e 27 impegni. E come faccio? Beh, certo, uno dice, ma io non posso mica occuparmi di tutto. No, di tutto no, però almeno accorgersi sì. E quindi agevolare quella partecipazione perché quel sacramento entri in una carne, entri in una storia. Ora guardiamo questo fatto, no? Io adesso sto parlando dei bambini con disabilità e mi accorgo cosa non facevo con tutti gli altri. Quindi capite che c'è un rilievo di utilità sociale all'interno della comunità cristiana dell'accoglienza di persone più fragili, perché davvero io non finirò mai di ripeterlo, ma tutte le volte che noi facciamo qualche cosa per le persone più fragili ci rendiamo conto di cosa non facevamo per tutti gli altri, di che cosa davamo per scontato. Per cui appunto quando io do per scontato che il giovedì tu devi venire qua, ma io non so perché non ci sei o non mi interesso delle tue difficoltà esserci, e va bene, io distribuisco sacramenti, ma in realtà non sto facendo la Chiesa. Questo dobbiamo riconoscercelo e con calma affrontarlo. Quindi come guardare alla persona con fragilità, alla persona con disabilità? Beh, guardarla secondo quel principio del nocciolo avvolto dalla polpa racchiuso in una buccia. Mi spiego. quando noi mangiamo la frutta, il nocciolo lo buttiamo via. Pensiamo alla pesca per dire, no? Il nocciolo lo buttiamo via. Ma in realtà il nocciolo che noi non mangiamo, che buttiamo via, è la cosa più importante del frutto, perché è quello che dà futuro. Ecco, quando noi buttiamo via la persona con disabilità dalla comunità cristiana, noi neghiamo il futuro, non ci inizia da fare. Quando invece io guardo alla persona con disabilità, proprio secondo lo schema di questa pesca, dove il nocciolo è il cuore, è lo sguardo di futuro, allora avvolto dalla polpa, che è buona, che è succulenta, che è la presenza di tutti gli altri bambini, delle altre famiglie, della gioia, che ne so, della corale, del coro, dell'assemblea liturgica domenicale, no? Quella polpa che avvolge questo delicato nocciolo, certo, questo seme ha un futuro, altrimenti viene buttato via, no? E la polpa è protetta anche dalla buccia, cioè il fatto che, ad esempio, appunto, c'è un luogo dove ci troviamo, no? Ci chiamiamo il gruppo quadrifoglio, siamo l'oratorio, siamo la messa delle dieci e mezza, ecco, per dire, no? Questa buccia è ciò che racchiude la polpa che custodisce il nocciolo, ecco, a me questa immagine piace moltissimo e se lo vediamo, appunto, nella natura, perché non guardarlo nella comunità cristiana, ecco, questa cosa meravigliosa. Il passaggio che vi lancio prima dello stacco musicale, per poi riprenderlo con intensità dopo lo stacco, è quello di cominciare seriamente a pensare la comunità cristiana come ce la indica San Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 12, dove lui racconta il corpo ecclesiale come corpo di Cristo, arriva a dire che il corpo della Chiesa è il corpo di Cristo, che è formato da tante membra diverse interdipendenti. Ecco, durante questo stacco musicale pensiamoci e ci ritroviamo tra qualche istante. Bene, riprendiamo dopo lo stacco musicale e allarghiamo, apriamo questa immagine di prima Corinzi 12, corpo e membra. Forse è un testo che conosciamo, però lo riguardiamo insieme con calma perché è di una bellezza strepitosa. Oggi è anche domenica e la parola di Dio non guasta e ci può davvero spalancare a una intuizione che San Paolo ha avuto e che resiste davvero da duemila anni perché è carica di un significato spirituale. Dice Paolo, come infatti il corpo pur essendo uno ha molte membra e tutte le membra pur essendo molte sono un corpo solo, così anche Cristo. È una definizione che davvero sembra è ingegneristica, non so, ma è di una carica spirituale che è incredibile. Paolo compie una sintesi meravigliosa di una realtà teologica. Descrive il corpo della Chiesa quando questa davvero incarna lo Spirito di Cristo, diventa se stessa. dice il corpo non risulta fatto di un membro solo ma di molte membra. Ora qui noi dobbiamo renderci conto che nessuno di noi ha questa reale percezione di sé. Se io ti dico tu chi sei, automaticamente nella tua testa tu pensi a dove finisce il tuo corpo finisce dove c'è la tua pelle. Oltre la tua pelle non sei tu. Quindi il tavolo non sono io, anche se ci appoggio sopra i gomiti, ma mio fratello non sono io perché lui è lui e io sono io. Ecco, questo è quello che ci viene da pensare. Ma non può essere così se Dio è padre di tutti e quindi siamo tutti figli dello stesso padre, parte di un'unica famiglia umana. Cioè l'altro non è altro da me, è parte di me, è carne della mia carne, dice Adamo quando vede Eva. È osso delle mie ossa e da lì nasce la possibilità di una progenie, di un futuro. Quando noi ci pensiamo singoli siamo già morti. Ce ne siamo accorti durante la pandemia, quante volte si è ripetuto, no? Non ci si salva da soli. Sì, ma non soltanto perché c'è un generico aiuto, tu aiuti me, aiuto te. No, ma perché siamo una cosa sola. Questa è una realtà teologica. Noi la mutuiamo dal Vangelo di Cristo, dalla vicenda cristiana, ma è una realtà profonda dell'essere umano che anche in tutti i discorsi ecologici che andiamo a fare o lo pensiamo così, oppure appunto che il ghiacciaio si scioglie, non si scioglie. No, a me non interessa, tanto l'importante è che resto vivo io. No, ma il problema è che se si fonde quel ghiacciaio io muoio, muoio io. Se costruisco una brutta città, io muoio in questa brutta città, non ci vivo. Se costruisco una brutta classe di scuola dove ognuno pensa a sé, dove la maestra dà i bei voti ai meritevoli, io muoio. Io non vivo più. Perché ad esempio quando si lavora, adesso si fa il team building, cioè la costruzione di un gruppo. Perché se no il lavoro non procede, se gli stessi sono lì a farsi le scarpe l'un l'altro per avere i premi di produzione, secondo quel criterio dove soltanto il più forte resisterà, tutti stanno male. Allora Paolo dice attenzione che noi siamo il corpo di Cristo secondo questa logica, che è una logica sicuramente profetica, non è che si realizza in due minuti. Anche marito e moglie sanno di essere una carne sola secondo quanto viene celebrato in chiesa, nel loro matrimonio, però da lì a riuscire a viverlo ne va. Però quando non si perde questa visione profetica c'è un orizzonte di possibilità nel quale io posso muovermi. E attenzione che siamo in un contesto storico, in un contesto culturale, dove io dico sempre ci stiamo tribalizzando, cioè prende il sopravvento, la tribù alla collettività. Per cui io voglio stare con i miei simili. Io cerco sui social quelli che la pensano come me, quelli che sono come me, tutti quelli che gli piace il giardinaggio, fanno il gruppo del giardinaggio, quegli altri che eccetera. E questa modalità che se per il giardinaggio va bene, perché come quando c'è sempre stato, non so, il circolo culturale piuttosto che il circolo degli scacchi o il gruppo della pesca sportiva, per carità. Ma il problema è che oggi come oggi si sta tribalizzando l'appartenenza, cioè io non voglio appartenere a quell'altra comunità umana. Non mi interessa, non la voglio, la rifiuto. Perché? Beh, perché c'è una fatica. Ad accogliere chi è differente c'è una fatica. E certo, però, il problema è questo per noi che siamo all'interno di una comunità cristiana. Possiamo permetterci questo nel nome di Cristo, no? Questo è un peccato grave. Paolo dice poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo. È l'esito di colui che pensa che esiste la comunità cristiana, però siccome io sono differente non appartengo, perché non c'è posto per me, lo dicevamo la puntata scorsa, no? Di uno di dire ma io sono fatto così e quindi sono diverso da quelli là. Ma perché quella là non è una comunità cristiana, quella là è un gruppo di uguali. Ma la comunità cristiana non può essere il gruppo di uguali. Quando noi escludiamo chi è differente dalle nostre comunità cristiane, noi uccidiamo il corpo di Cristo. È inutile stare a girarci intorno. Questa è la qualità alla quale siamo chiamati. E quindi come si costruisce questo corpo? Beh, innanzitutto accorgendosi. Ad esempio proviamo a pensare quante volte per delle attenzioni pastorali specifiche noi spezzettiamo il corpo di Cristo e non lo ricuciamo più. Esempio, è importante insegnare che ne so, ai ragazzini a celebrare. E quindi è logico che per celebrare con i ragazzini e per insegnar loro un celebrare avrò bisogno di canti, avrò bisogno delle modalità, avrò bisogno di messe che siano più catechetiche, no? Oppure di estrarre quella parte catechetica della messa perché loro possano appassionarsi all'Eucarestia di Cristo ma quando poi la messa di quelli lì resta fissa, la messa di quelli lì e non diventa mai la messa dell'intera comunità, ecco che io ho ucciso il corpo di Cristo. Quando io continuo al giovedì pomeriggio alle tre a fare la messa del gruppo Pinco Pallino io ho escluso, ho tribalizzato la comunità cristiana. La comunità è una, è una ed una sola che è fatta dai neonati ed è fatta fino ai nonnini e in mezzo ci sono ad esempio tutte le età della vita. Quando io separo le parti e non le ricongiungo mai, perché è ovvio che se, voglio dire, se mi si ammala l'orecchio devo andare dall'otorino, quindi per curare quel membro del corpo dovrò avere delle attenzioni specifiche, sì ma poi quel membro del corpo deve sentirsi parte di un corpo, altrimenti non è il membro di un corpo, è un membro che vaga in uno spazio vuoto. Ecco dove le persone con disabilità devono trovare la loro giusta collocazione, perché Paolo dice noi le membra più fragili le curiamo di più. È vero o no che se ciò, non so, male a un dito magari me lo tengo per un mese, ma prova ad avere per tre giorni male al centro del petto in una posizione del cuore se non corri immediatamente dal cardiologo. Perché? Perché sai che quell'organo all'interno del tuo organismo è più fragile, se ti si ammala il cuore si ferma tutto, per cui con un dolore al dito, con un taglio sul dito posso sopravvivere. Noi siamo già visibilmente abituati a curare di più le membra più fragili, perché il nostro corpo lo sentiamo come potenzialmente minacciato dalla fragilità. Ma lo stesso lo viviamo nella comunità cristiana sì o no? Cioè abbiamo questa percezione della comunità cristiana oppure siamo autosufficienti? Pensate ad esempio come alcune associazioni, alcuni movimenti, alcuni gruppi, sono solo loro. Si fanno le loro messe, sono sempre tra di loro, hanno il loro linguaggio, hanno i loro riti, hanno le loro modalità. E questo non è Chiesa, eh? Questa è la morte del corpo di Cristo, che invece deve essere fatto da molte membra e dove le membra più fragili sono quelle che vengono custodite di più e meglio. Ecco perché io vado a sostenere la famiglia dove è presente la fragilità, per agevolare, per far appartenere alla comunità quel membro più fragile. Potrebbe essere che appunto il Giovanni che è in sedia a rotelle, la domenica mattina andiamo con i ragazzi delle medie a prenderlo a casa, così intanto mamma e papà tirano un po' il fiato. Lui viene a messa e poi abbiamo un momento di comunione insieme. E queste piccole o grandi attenzioni dicono che c'è un corpo vivo. È chiaro che se io dico, vabbè, ma io posso vivere senza un piede? Posso vivere senza un piede? Sei zoppo. Cioè se appunto nessuno va a casa di Giovanni a prenderlo, Giovanni non ci sarà. Posso vivere senza Giovanni? Sarò zoppo. Non renderò merito alla potenza del corpo di Cristo. Quindi quando poi io faccio la comunione e dico corpo di Cristo, io sto mentendo perché Giovanni è a casa. Il corpo di Cristo non è qui. Io non posso disgiungere il sacramento, cioè la realtà sacramentale dalla realtà storica che sto vivendo. Eh, perché se no, 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 è una cosa che non sta in piedi. Posso io ricevere il corpo di Cristo mentre il corpo di Giovanni è assente? È assente non perché è malatto in quel momento lì, c'è raffreddore, non può venire, ma perché nessuno si cura di lui. Ora è chiaro che ci deve interrogare un'assenza, ci deve interrogare anche da un punto di vista teologico. Ecco, vedete, io mi rendo conto che tante volte si spinge su questi temi la questione del buon cuore, dell'atto di generosità, dell'essere buoni, no? Ma no, ma qui la questione è teologica, non è una questione di fare la buonazione quotidiana, di fare un fioretto. Qui la questione è teologica, cioè io devo capire che questo movimento, questo atteggiamento ha un valore teologico imprescindibile. non posso semplicemente dire eh dai cerchiamo di invitarlo qualche volta, magari una volta facciamo una festa, ma facciamo una festa cosa vuol dire? Ma lui appartiene a te, è membro del tuo stesso corpo oppure siccome ti fa paura il fatto che quando mangia la torta sbauscia allora tu lo tieni a distanza? E noi dobbiamo superarle queste distanze, altrimenti che comunione facciamo con Cristo noi facciamo un atto sacro, facciamo un atto religioso, ma che non incarna lo spirito di Gesù. E questo dopo se lo estendiamo, cioè davvero quando cominciamo la messa dobbiamo chiedere perdono? Ma chiediamo perdono per quelli che abbiamo lasciato a casa, per quelli di cui non ci interessiamo. Anche l'altro giorno parlando con una persona anziana mi diceva che nel suo condominio c'è una signora anzianissima che nessuno va mai a trovare, no? E lei dice ma io non posso pensare che alla domenica portano l'eucarestia a me e a lei no. E quindi lei si è attivata per fare in modo che quando arriva il ministro dell'eucarestia a casa sua lei accompagna il ministro dell'eucarestia anche in casa di questa signora che è chiusa via che se non è lei a suonare non apre a nessuno eccetera eccetera. Ecco questo, questo quindi non è una questione di buon cuore, è capire che io non posso fare la comunione con Cristo se dalla comunione con Cristo resta fuori un membro del mio stesso corpo che mi abita qui di fianco, che è parte del mio stesso corpo, che in quel caso è il condominio, in quel caso è la piccola comunità condominiale delle amicizie, delle conoscenze che ci sono. Ora capite che noi stiamo parlando di persone con disabilità ma questo ci spalanca davvero un orizzonte incredibile, meraviglioso su ciò che magari continuiamo a non fare o a non vivere all'interno dei vissuti quotidiani. quindi vedete come le persone con disabilità sono utili ancora una volta a capire che cosa sbagliamo con tutti gli altri e come come Paolo ci può rimproverare e quando dice che se tutte le membra non sono interdipendenti l'una dall'altra noi non stiamo facendo il corpo di Cristo. Ecco adesso ci fermiamo un attimo per una pausa musicale però ciascuno può riflettere su che cosa succede nella sua propria comunità. Bene eccoci ritornati insieme avete capito che nel momento centrale di questa trasmissione insomma io ho detto delle cose molto rilevanti e io mi rendo conto ecco però voglio dirvi l'importante è accorgersi eh io non dico queste cose perché dobbiamo fustigarci sentirci in colpa o dire che non siamo bravi o che siamo scandalosi magari lo siamo pure però io non dico queste cose per questo ma perché ho l'impressione che a volte assumiamo degli atteggiamenti e dei comportamenti e non ci rendiamo conto che l'aspetto religioso del vivere che magari è presente nella nostra comunità cristiana è senza vita è un aspetto religioso ma non è carico di fede di speranza e di carità è privo dello spirito di Cristo per cui appunto io vado a messa faccio la comunione ma del destino di quello là no non mi interesso oppure e allora uno dice vabbè ma io penso al mio il mio Gesù il mio no la mia fede no no ma il problema è che quel membro che è assente che non c'è è parte del tuo stesso corpo e tu non puoi fare a meno di lui e questo è quel principio di interdipendenza ecco scrive un grande esperto di spiritualità cristiana e di disabilità dice la natura natura umana è voler appartenere a gruppi di creature affini questa è la natura umana a quelli della stessa cultura o che hanno gli stessi obiettivi gli stessi interessi ci sentiamo più sicuri così in un gruppo di uguali diciamo no coloro che sono diversi ci disturbano e mentre la maggior parte di noi può trovare anche stimolante o almeno interessante incontrare un estraneo per un breve periodo è una cosa molto diversa aprirsi davvero e permettere a un estraneo di diventare amico ora per estraneo estraneo è chi è differente da me quindi non estraneo perché semplicemente ha la pelle di un altro colore o viene da un altro paese ma anche chi è differente io vedo no a volte quando un bambino guarda la persona con disabilità si accorge di questa differenza e il bambino per fortuna se ne accorge con curiosità e la curiosità è sintomo di intelligenza ed è la porta poi per la conoscenza ma altri davanti a questa differenza si rinchiudono e dicono per carità cioè io non ce la faccio ecco quindi questo tipo di di chiusure di tribalizzazione come l'abbiamo chiamata è pericolosa e dice ancora se iniziamo a vedere le persone in fondo come amici come persone con doni da portare agli altri allora la piramide sociale con i più potenti capaci sapienti intelligenti belli in cima diventa un luogo dove ogni persona trova il suo posto e dove possiamo vivere nella fiducia reciproca cioè quella piramide si distrugge non è più una piramide è una circolarità è una visione utopica io dico profetica se è vissuta a partire dalla comunità cristiana la comunità cristiana diventa comunità di famiglia diventa comunità umana diventa anche simbolo stesso di un vivere sociale differente quindi non non abbiamo paura di vivere delle utopie perché noi sappiamo che noi viviamo in un tempo che è finito che è limitato ma noi siamo aperti verso l'eternità e siamo aperti a visioni profetiche per cui se la comunità cristiana vive determinati valori insegna alla comunità civile a viverli questo è meraviglioso appunto un ragazzo una ragazza un uomo una donna con disabilità trovano casa nella comunità cristiana ma non perché sono sempre in oratorio o sono sempre in sacristia in parrocchia o a vendere i fiori fuori della chiesa ma perché hanno lì una comunità di appartenenza hanno lì una comunità di amici e questo chiaramente è un prendersi cura non dell'altro l'altro giorno ascoltavo la testimonianza di un giovane che va a fare esperienze fa il volontario di professione diciamo e quindi va di qua va di là incontra i bambini le comunità più povere del mondo eccetera e lui diceva ma esiste l'altruismo l'altruismo in realtà non deve esistere perché prendersi cura dell'altro è prendersi cura di sé e fin tanto che io penso che l'altro sia altro da me e dove il prendersi cura dell'altro è un chinarsi su chi ha più bisogno io non arrivo a comprendere che che quel corpo è il mio corpo non c'è una distanza non c'è una differenza certo membra membra diverse se vogliamo no appunto un uomo non è una donna per dire un bambino non è un anziano sono membri di veri differenti ma che appartengono a un un unico corpo e siccome appunto questo noi non lo mutuiamo dalla società civile lo mutuiamo dalla parola di dio lo motivo lo mutuiamo da da quello che cristo ci ha indicato e gesù vedeva la folla e si commuoveva per loro perché erano come pecore senza pastore ma il pastore non è pastore se non ci sono le pecore e le pecore se non c'è il pastore sono disperse non sono un greggio quindi capite questa interdipendenza non è un fatto aleatorio che se siamo bravi una volta al mese facciamo la pizzata per i disabili quella roba lì sì per carità meglio che niente ma non è la comunità cristiana comunità cristiana è che va bene una volta al mese mangiamo la pizza ma ma tutti ma tutti i giorni io so che tu esisti che tu ci sei e tu sai che io ci sono ecco questo adesso vi dico l'esperienza no personale della vita mia con con mio fratello che appunto ha una disabilità lui poi ha questa grande capacità di di relazione ecco nei suoi limiti ma lui è desideroso sempre di sapere tutto della vita degli altri cioè lui non sente se separato dagli altri cioè se un suo compagno del centro di urno è ammalato lui è triste e lui dice oggi carmelo non c'è perché è perché è ammalato e quando torna e adesso oppure al contrario dico no quell'operatore oggi va in ferie ma lui vuol sapere tutto dove vai cosa fai quando torni con chi vai come all'albergo come è stato perché questo perché lui non sente se indipendentemente dall'altro ora io questo lo vedo tutti i giorni cioè lo sento tutti i giorni anche questa mattina accompagnando roberto a prendere il polmino mi diceva cosa fai oggi dove vai e stasera devo andare c'è la fiaccolata per la pace ma dove vai con chi vai e dico con il gruppo degli scout a dove c'è anche la cristina dove c'è martina dove c'è giovanni dove c'è andrea e quelli che avevano fatto la festa con me cioè lui immediatamente percepisce se è dentro in una collettività ora se lo percepisce lui che ha una disabilità mi domando io ma io che tendenzialmente non lo percepisco sono sicuro di cioè che forse la sua non è una disabilità la disabilità è la mia che non lo percepisco più o che non voglio percepirlo o che ho paura a percepirlo quando usciamo alla mattina e siamo lì ad aspettare il pulmino c'è un signore che di mestiere viene ad aprire il suo negozio di quadri e lui tutti i giorni ci fa due chiacchiere e quando scende un altro signore che abita nel palazzo che ha la mamma anziana molto malata lui sempre chiede come sta la tua mamma dove vai cosa fai dove sta andando lui non percepisce se semplicemente come se chiuso in se stesso ora certamente roberto ha ricevuto un dono soprannaturale ma io comprendo che un dono soprannaturale perché ho letto la parola di dio altrimenti direi è solo un impiccione capite la differenza ed è lì anche che io mi accorgo che sono io disabile cioè che che mi manca questa abilità io sono timido a chiedere all'altro come stai cosa stai facendo dove vai con chi vai perché perché ci abituano che nelle buone maniere noi non dobbiamo sapere niente degli altri e questo che poi viviamo nei nostri condomini dove si prende l'ascensore uno guarda per aria l'altro guarda per terra non ci si scambia una parola mentre invece appunto se l'altro è parte di me io non posso non scambiare una parola come è ai figli e cose cioè questo è e questo tessuto che è auspicabile a livello sociale guai a noi se non c'è nella comunità cristiana chiaro che nel momento dello scambio della pace a parte che adesso non possiamo ancora scambiarci la pace no ma che lì mi giro verso uno che non conosco gli do la mano e buonanotte al secchio e tutto finisce lì ma che senso ha questo gesto allora forse questo gesto deve essere ad esempio contestualizzato o deve essere rinvigorito io sono andato in una comunità anglicana e loro il gesto dello scambio della pace ce l'hanno alla fine della messa cioè tu hai ricevuto la pace da cristo dopo la benedizione finale ci si scambia la pace gli uni gli altri e quindi la messa passatevi in termine finisce in cacciara cioè nel senso che tutti parlano con tutti beh io dico adesso non è che bisogna farlo per forza perché lo fanno gli anglicani sono più bravi di noi no voglio dire è tanto per capirci no però ad esempio appunto questo crea comunità crea un senso di appartenenza degli uni agli altri dove finita la messa ci si racconta la vita quello che magari avviene sul sagrato però osserviamo come a volte succedono le cose sul sagrato che i gruppi degli amici si radunano tra di loro parlano tra di loro con i loro linguaggi e non vedono gli altri questa non è la comunità cristiana questa è sono membri non interconnessi non intercomunicanti non interdipendenti e quindi è chiaro che nella visione del sostegno all'altro perché oggi il tema appunto era quello del sostenere le famiglie con disabilità io devo rendermi conto che la vita dell'altro è parte della mia vita altrimenti io stesso non ho una vita quindi e quando io come comunità ad esempio non so come comunità di oratorio mi rendo presente a sostegno della di quella famiglia io sto entrando a far parte di quella famiglia sto permettendo a quella famiglia di entrare a far parte di me e quindi la mia famiglia si sta allargando e il fatto che questo allargamento avvenga è un mistero mirabile se lo poi lo guardo nell'ottica di cristo è il corpo di cristo che vive ora è chiaro che detto questo potremmo piangere lacrime su tutto quello che stiamo sbagliando e su tutto quello che non riusciamo a fare nelle nostre comunità no io vi dico sinceramente l'importante è accorgersi l'importante è capire la portata teologica di questo discorso di capire che qui non stiamo semplicemente cercando di fare qualche cosina di simpatico per i ragazzini disabili no qui stiamo parlando di rendere il corpo di cristo vivo pieno dello spirito di gesù e allora poi come si procede beh si procede con passi successivi ecco una cosa importante proprio questa io mi accorgo faccio dei passi faccio dei passaggi e magari creo piccole esperienze di comunità ma con la forza di questa teologia cioè non ho una prassi che assodata cerco di aggiustarla ma di dire allora ripensiamo la celebrazione domenicale della messa ripensiamola in questi termini oppure ripensiamo la comunità dell'oratorio oppure ripensiamo che ne so io il gruppo dei manutentori non so ecco cioè piccoli passi ma che hanno dentro la forza di questa teologia io vi rinnovo se volete è davvero io non ci guadagno niente è solo perché appunto è l'editore che che vende il libro però nel mio libro questi temi vengono affrontati in una scaletta di dieci passi quindi se può essere utile la disabilità ci rende umani edizioni IPL per una comunità inclusiva può essere davvero un manuale utile per ritornare su questi temi e provare davvero a fare passi decisi di cambiamento va bene io vi ringrazio dell'attenzione spero di essere stato semplice nell'esposizione e di avervi dato degli spunti di riflessione utili e a conclusione visto anche oggi che è una domenica particolare la prima domenica di quaresima chiediamo una benedizione speciale al Signore chiediamo davvero che i nostri cuori si convertano al suo Vangelo chiediamo che in questo momento di gravi difficoltà che l'Europa sta attraversando noi non spezzettiamo la comunità umana in chi ha ragione chi ha torto deboli contro forti ma guardiamo che il corpo di colui che finisce sotto le bombe è lo stesso corpo di chi sta guidando il carro armato ecco perché questo è un grave peccato per l'umanità perché è lo stesso corpo che sta soffrendo e quindi chiediamo la benedizione e la pace che viene dal Signore il Signore sia con voi vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona domenica a tutti buon cammino di quaresima e ci rivediamo ci risentiamo tutte le volte sto vediamo ci risentiamo a la prima domenica di aprile a presto ciao